Rinasce a Firenze dopo oltre 12 anni di abbandono l'area ex meccanò alle cascine. Sarà un nuovo spazio verde con la messa a dimora di specie autoctone e la realizzazione di uno chalet aperto, ottagonale sul modello ottocentesco con alcune panchine intelligenti. Un intervento che ricongiunge l'area, finora inaccessibile e incorta, al giardino della catena, a sua volta interessato da lavori di riqualificazione. L'importo dell'intervento è di 990.000 euro, finanziato con i fondi ministeriali del Piano Città. Già da questo martedì sono in programma gli interventi di ripulitura. La porzione occupata dalla ex discoteca si estende per una superficie di 3.312 metri quadrati, mentre il giardino della catena occupa un'area di circa 15.000 metri quadrati. L'idea fondamentale alla base del progetto, ha detto l'assessore all'ambiente Cecilia del Re, e quella di reintegrare nel complesso del giardino della catena l'area verde dell'ex meccanò, che storicamente ne ha sempre fatto parte, costituendone il primo nucleo e abbattendo anche tutte le recinzioni che ne impediscono l'accesso. Realizzeremo una struttura aperta pensata sul modello ottocentesco, che accoglierà i visitatori del parco e sarà dotata di servizi igienici pubblici, monitor collegati alla rete dati e panchine intelligenti, comprese per la ricarica elettrica di cellulari e computer.